È stata azzurra per Blu Robica perché sono arrivate tre convocazioni nazionali, una per categoria, Under 20 con Matteo Cagliani, Under 18 con Lorenzo Leoni e adesso c'è Federico Pillepic in Under 15 alla torneo dell'amicizia. Siamo ovviamente molto contenti per i ragazzi e molto soddisfatti per noi, vuol dire che stiamo lavorando nella maniera giusta. Oltre ai tare che hai citato ricordo però anche i ragazzi che hanno fatto da riserva a casa come per esempio Cefi, Sofumagalli nel gruppo Under 15 o altri ragazzi che sono stati stabilmente coinvolti nei raduni regionali. Per noi è una cosa importante e ci permette di dire che riusciamo a valorizzare, reclutare e far crescere fisico, talento ma non solo per oggi anche e soprattutto in prospettiva. E poi l'esperienza nazionale credo che sia la cosa più bella che possa fare uno sportivo, quindi mi aspetto che i ragazzi tornino molto molto motivati e come gli dico ogni volta che tornano dai raduni che mi aiutino a diffondere il verbo. Cioè loro che hanno provato il livello di intensità richiesto, loro che hanno provato alcune situazioni tecnico-tattiche, loro che hanno provato la maniacale attenzione ai fondamentali che c'è in nazionale, voglio che diventino veri e propri testimoni di questa cultura di palacanestro che dobbiamo diffondere il più possibile anche nel nostro club.